oh mio dio è tardissimo devo andare subito mi aspetta la carrozza ma chi sei scommetto che tu sei un amico del magico paese piacere io sono molto molto in ritardo ho una carrozza che mi aspetta devo andare dal non importa benvenuto nel magico paese sto qui un po con te poso il bastone e il mio cappello e adesso parliamo un po benvenuto in questo magico paese sei curioso vero curioso di sapere chi sono io sono il mago pago il mago pago è un mago non mago che cos'è un mago non mago un mago non mago è un mago che non fa magie ad esempio prendi un mazzo di carta e estrai una carta e fammela vedere ad esempio è un due di cuori e io la rimetterò nel mazzo mescolerò le carte e poi la ripescherò e vedrò che un due di cuori la carta che hai scelto tu bene non ti fa ridere ebbè è vero non fa ridere a nessuno ma è una non magia ma le cose che piacciono molto sono le mie storie ah sì devi sapere che io vivo in un vecchio castello e frequento tante persone importanti sì principi conti duchi baroni e anche tre re un imperatore un sultano e anche lo zar di tutte le russie sì frequento tutte queste persone e ci sono tante storie da raccontare certo perché accadono tantissime cose in quei posti ad esempio non posso raccontare ecco ti spiego molti vogliono sentire le mie storie ma quello più ghiotto delle mie storie sai chi è non ci crederai mai non l'ho detto a nessuno lo dico soltanto a te e babbo natale sì babbo natale e lui va matto per le mie storie così poi le racconta i bambini quando arriva natale e beh adesso vado cosa vuoi sentire una mia storia ma non posso perché devo dirla poi a babbo natale e lui racconta la storia ai bambini nessuno ci sente e va bene farò uno strappo alla regola per te ti racconterò una bella storia sì ma mi raccomando quando arriverà a natale se babbo natale dovesse raccontartela fa finta di niente fa finta di non averla mai sentita va bene ecco mi metto comodo e ti racconto la storia accadeva tutto tre o quattro anni fa ero nel regno di smeralda regno di smeralda regna un re che si chiama re smeraldo il re smeraldo amava molto le battute di caccia andare a caccia sì ma era una caccia finta non c'erano animali veri no no erano animali finti e lui si divertiva così l'unico animale vero era il suo falco il falco che teneva sulla sua spalla era un suo carissimo amico il falco è un uccello rapace molto pericoloso ma col re smeraldo era molto buono alla fine della caccia non caccia andò a riposarsi disse ai suoi servi vado a riposare sotto quella roccia bianca mi raccomando quando sarà pronto il pranzo chiamatemi subito bene e dissero i servitori andiamo e lei cosa fa lei inteso per me e io dissi vado a riposare sotto quell'albero e andai a riposarmi sotto un albero mi addormentai di piombo il re invece andò sotto la roccia bianca e lì si distese il falchetto appollaiato vicino a lui stava a guardarlo la roccia era ombrosa e il re riposava serenamente ma a un certo punto una mosca molesta si posò sul naso del re e allora si svegliò ma in quel momento sentì uno scrusciare d'acqua come di fonte allora si alzò e andò a vedere ed effettivamente era vero lì vicino c'era una fonte d'acqua limpida cristallina buonissima almeno così sembrava prese il suo bicchiere dalla bisaccia bicchiere era un re e quindi nella bisaccia aveva una coppa d'oro prese la sua coppa e la mise sotto la fonte ora l'acqua stillava piano e il bicchiere ci mise un po riempirsi ma quando fu bello pieno il re lo prese e il falco volando glielo fece cadere che disdetta il re un po si adirò e disse sei sbadato fammi bere ho sete adesso perché vedendo l'acqua viene ancora più sete mise di nuovo la sua coppa sotto e quando fu di nuovo piena il falco volando vicino alla coppa gliela fece cadere ma allora lo fai apposta disse il re mi fai cadere la coppa io sto morendo di sete basta prese di nuovo la coppa e la mise sotto l'acqua quando fu bella piena il falco si nuovo si librò in volo e con un colpo d'ala gli fece cadere la coppa il re era fuori di sé dalla rabbia prese il suo coltello prese il falco e cosa sto facendo stavo uccidendo il mio più caro amico gettò per terra il coltello e guardò il falchetto negli occhi il falchetto aveva uno sguardo strano lo guardava tra la misericordia la paura la pietà la raccomandazione insomma il suo sguardo era pieno 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 di raccomandazioni il re disse che strano sguardo hai mai vedi uno sguardo così quando guardavo i tuoi occhietti beh non importa allora gli legò le ali e le gambe le zampette e lo mise sotto un albero così non mi disturberai prese la sua bella coppa e la mise sotto l'acqua quando fu riempita finalmente prese la coppa e l'accostò alle labbra ma in quel frattanto arrivarono i servi a gran galoppo verso il re sire sire il pranzo è pronto ma il più scalto dei servi vedendo che stava bevendo a quella fonte e da quella coppa subito si precipitò dal re diedo una spinta al re in modo da fargli cadere la coppa scusatemi sire per questo ardire ma quest'acqua è avvelenata avvelenata disse il re sì sire è avvelenata pericolosissima morte immediata vedete sire di ho salvato la vita salvarmi la vita no è stato il mio fedele falco a salvarmi la vita prese il falco lo abbracciò e disse ma come avrei potuto oh ti stavo quasi uccidendo e invece tu con i tuoi occhi e con quello sguardo mi stavi dicendo di fare attenzione oh mio fedele amico scusami scusami a volte gli amici per dimostrare la loro amicizia si comportano in modo strano il re prese il suo falco lo mise di nuovo sulla spalla e andò verso la reggia mi chiamarono stavo ancora riposando sotto l'albero e un servo mi raccontò tutta questa storia e così vedevo il re davanti a me sul suo cavallo con il falco sulla spalla che lo accarezzava accarezzava con grande affetto dicendo ecco quando ci sono delle brutte storie delle calamità delle persone noiose a volte bisogna fare attenzione perché non sempre quel momento è negativo potrebbe nascondere qualcosa di positivo e continuava a dire così la prossima volta dietro una brutta storia può nascondersi una buona opportunità ed è quello che dico a te dietro qualcosa che non ci piace dietro qualcuno che magari fa qualcosa che non ci piace molto magari c'è un insegnamento magari c'è qualcosa che ci può aiutare e addirittura salvare vediamo l'orologio deve essere l'ora giusta amici miei è tardissimo devo andare mi aspetta lo zar di tutte le russie a san pietroburgo c'è il gran ballo il re è un po malato sì quel re lì anzi quello zar lì ogni tanto si ammala ma il ballo si farà lo stesso e io ci devo essere perché ma per raccontare altre storie altre storie interessanti amici miei tu sei un caro bambino e sono sicuro che ascolterai la prossima storia ti è piaciuta no sì spero proprio di sì ebbene adesso vado prendo il mio cappello il mio bastone e volo via sulla mia carrozza arriva ricordati andrà tutto bene ciao alla prossima ciao